Avere un figlio è un problema per il 15% delle coppie italiane. L'ospedale di Karate, dove nel 2022 sono nati 1.100 bambini, aiuta quanti sono in difficoltà grazie al centro di procreazione medicalmente assistita, unico nel suo genere in tutta l'area della Brianza Nord. Ogni anno sono circa 250 le prime visite, un terzo delle coppie è di origine straniera, provengono per lo più dall'est Europa e soprattutto dai paesi arabi. A tutti è offerto un supporto di mediazione linguistica e culturale e un servizio di psicologia. La fascia d'età delle donne che si rivolge alla struttura è compresa fra i 30 e 45 anni. I numeri del 2022 sono rilevanti, 100 inseminazioni intrauterine con 15 gravidanze avvenute successivamente. L'attività dell'ambulatorio, spiega Sara Consolni, ginecologa responsabile del centro, prevede colloqui informativi sulle diverse opzioni di genitorialità, approfondimenti sulla salute della coppia con proposta di interventi di prevenzione e indicazioni sull'importanza degli stili di vita e sulla nutrizione che possono avere un impatto sulla fertilità. L'equipe dell'ambulatorio segue il principio della gradualità del ricorso alle tecniche di procreazione assistita allo scopo di limitare l'invasività tecnica e psicologica degli interventi, tenendo conto dell'età dei pazienti, dei dati emersi dalla valutazione clinica, delle eventuali cause di infertilità, degli anni di ricerca della gravidanza e della volontà della coppia. La fase di inquadramento diagnostico, aggiunge Marco Manni, direttore facente funzione dell'ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Carate, prevede la collaborazione con altri ambulatori specialistici della struttura, come gli ambulatori di patologia benigna, isteroscopia e colposcopia, soprattutto se viene identificata una causa specifica di infertilità. Da ultimo è di fondamentale importanza la gestione degli aspetti emotivi che caratterizzano il percorso di procreazione assistita con un'offerta attiva e il costante supporto psicologico.